Buonasera a tutti, grazie di essere qui, voglio solo salutare e darvi un benvenuto al nome del FAE, del Fondo Ambiente Italiano, che come credo voi sappiate è dal 1996 proprietario di questo luogo, di Villa e Collezione Panza e grazie, devo dire, all'ordine degli architetti della provincia di Varese, con il quale noi da molti anni, ormai quasi dieci, abbiamo iniziato una collaborazione davvero importante e costruttiva in un pensiero, diciamo così, nuovo e anche forse di ricerca che ci aiuti a leggere le testimonianze, diciamo così, dell'attualità e che ci possa dare anche dei pensieri, delle ricerche nuove per il futuro. Quindi già con Laura Giannetti, che è stata Presidente dell'Ordine degli Architetti per molti anni, abbiamo iniziato ad ospitare queste conversazioni e devo dire, come forse Andrea Ciotti aveva già in qualche caso riassunto, più di cento architetti sono passati in questi anni e abbiamo avuto tantissime visite, quindi questo luogo è diventato quello per cui poi in realtà noi continuiamo e desideriamo che continui ad essere un luogo anche di ispirazione, come era stato per Giuseppe Panza, nel quale lui aveva, peraltro, creato dei criteri estetici e museografici davvero innovativi. Adesso si apre un altro ciclo e quindi grazie, grazie per tutti voi, anche grazie che in qualche modo questo spazio diventi una parte del nostro vissuto, in fondo noi siamo soltanto i proprietari, ci occupiamo della gestione, della valorizzazione, ma siamo felici di poter condividere ogni giorno la bellezza di questo spazio. Quindi io non voglio portare più via tempo, ringrazio Leana Moretti, la Presidente dell'Ordine degli Architetti e tutto il consiglio per questo nuovo ciclo di incontri, che quest'anno si focalizzerà sulla committenza, che è un tema straordinariamente panziano, nel senso che qui, grazie ad un grande committente con Giuseppe Panza, si sono create delle installazioni e dei lavori davvero unici, direi, per tante ragioni. Quindi io ho stata felice oggi di aver conosciuto Felice Varini, a proposito di felicità, è stato un incontro interessante, poi credo che lui appunto parlerà della sua poetica, delle sue esperienze. Grazie a tutti i relatori, passo quindi la parola a Eleana Moretti. Grazie molto. Buonasera, grazie Anna. Sono molto felice di dare l'avvio quest'anno ad un nuovo ciclo di incontri. Gli incontri di quest'anno, come ha anticipato Anna, saranno intorno alla committenza, architettura, ma non solo, perché l'architettura è resa possibile grazie ad un lavoro di squadra, un lavoro che viene portato avanti da una committenza, una committenza attenta, lungimirante, illuminata e da amministrazioni attente al territorio e alla sua promozione attraverso appunto l'architettura. Quindi quest'anno i nostri incontri si svilupperanno attorno a questi dialoghi, vi presenteremo più opere e più gruppi di lavoro. Questa sera abbiamo Felice Varini, artista e pittore, abbiamo l'onorevole Cristina Zanini Barzaghi, municipale della città di Lugano, abbiamo il collezionista mecenate Cesare Fusetti e come intrattenitore e moderatore il nostro regista Andrea Chiodi di Varese. L'incontro è tutto da scoprire e sarà appunto Andrea Chiodi che ci condurrà alla scoperta delle architetture e dei legami che uniscono le persone a questo tavolo. Io vi auguro una buona serata che sarà sicuramente molto interessante e passo la parola ad Andrea Chiodi. Grazie a Eleana, grazie a tutti. Buonasera, sono un po' emozionato ma felice di essere in questo luogo in fondo anche con degli amici, Anna Bernardini che ha introdotto la serata e Eleana Moretti con cui ci conosciamo da tanto. Sono felice perché quando Eleana mi ha proposto di essere qui questa sera e mi ha detto che ci sarebbe stato l'artista Varini io ero molto colpito perché ho la fortuna di lavorare all'AC di Lugano a fianco a Carmelo Rifici, direttore di Lugano in scena da un po' di anni e quindi tutte le mattine io mi imbatto nelle sue opere, le vedo sempre. E quindi sono molto felice di poter essere qui questa sera. E questo tema della committenza è vero che è molto importante sia per voi che fate gli architetti, chiaramente, sia per gli artisti ma certamente anche per gli uomini di teatro, capire chi ti permette di sviluppare delle idee. Io però prima di lasciare la parola a voi che avete cose molto più interessanti volevo partire da questa cosa volevo partire da molto indietro, una cosa che sicuramente tutti gli architetti conoscono benissimo che sono le parole di Vitruvio che dice a un certo punto nel suo trattato importante sull'architettura un architetto non deve né potrebbe essere un grammatico come fu Aristarco ma neppure un analfabeta né un musicista come Aristosseno ma neppure un ignorante in materia musicale non un pittore come Apelle tuttavia abile nel disegno non uno scultore come Mirone però è esperto nell'arte plastica non un medico come Ippocrate ma nemmeno privo di conoscenze igienico-sanitarie cioè non deve infine eccellere particolarmente né essere del tutto digiuno di ogni altra scienza e mi è sembrato molto bello perché il rapporto tra un luogo pubblico, una struttura che deve contenere tante cose è proprio il compito di chi poi le costruisce cioè che deve conoscere tutto quello che un luogo, uno spazio può contenere mi sembravano belle queste parole di Vitruvio che poi dice suddivide l'architettura in sei categorie e dice ordine, disposizione, armonia, proporzione, decoro, distribuzione e poi dice ancora le parti dell'architettura, le costruzioni sono sul pubblico e sul privato e poi dice, e questo è il punto secondo me più interessante per questa serata ogni costruzione deve avere inoltre i seguenti tre requisiti e il primo, vabbè, la solidità e questo mi sembrava molto importante e fondamentale poi l'utilità e la bellezza credo che utilità e bellezza siano due punti fondamentali per chi richiede un'opera, quindi ha un'utilità e la bellezza è quello che chi la costruisce in questo caso è il rapporto tra un committente e un artista ma anche tra un committente e un architetto richiede che quel luogo abbia una bellezza e credo che Felice Varini abbia proprio fatto questo nei luoghi che ha incontrato in tutto il mondo ho citato l'opera che appunto è presente a Lugano ed è il motivo per cui c'è anche l'onorevole qui stasera non solo ma perché a Lugano c'è un luogo che è il LAC che è sicuramente un luogo dove il rapporto tra l'utilità e la bellezza sono veramente strettissimi tra l'altro io saluto, se posso, prima di lasciarvi la parola saluto il direttore di Castello Cultura Lorenzo Sganzini che è con noi stasera l'avvocato Giovanna Masoni che tanto ha fatto per il LAC ci conosciamo per cui non potevo non salutarli insomma sono qui con noi e sono felicissimo che ci siano perché quello è un luogo dove utilità e bellezza vanno proprio insieme poi magari ne parliamo insieme di questo onorevole, va bene? io adesso darei la parola a Felice per raccontarci del suo lavoro nel mondo e del tuo rapporto proprio con i luoghi pubblici soprattutto che tu hai incontrato e come sei intervenuto in questi luoghi da dove comincio non so bene da dove cominciare comunque come premessa posso dire che ho deciso nel 1978 di abbandonare la pittura sur chevalet in italiano non so bene come si dice un lavoro d'atelier ma di creare la mia avventura nello spazio e nell'architettura e nella vita, nel quotidiano secondo i luoghi e i siti che si presentavano davanti a me chiaramente non è che andavo per la città adesso a sinistra per cercare dei posti sui quali intervenire un po' come si fa nella street art come si fa con certe attività pittorali odierne ma era sempre un lavoro che doveva svilupparsi in legame dei siti di esposizione dei siti ricercati appositamente per presentare un lavoro ufficialmente e dunque questo lavoro si è sviluppato da quel momento da quegli anni fino a oggi e lavoro sempre con un metodo che è un metodo che definisce un punto di vista a partire dal quale il lavoro pittorico entra in gioco con questa realtà per prendere un esempio prendo un esempio a caso perché non so bene da che parte cominciare qui ci troviamo al castello di Versailles ecco siamo all'orangerie di Versailles è un'esposizione temporanea che dura finalmente un'esposizione che durerà solo due notti è legata alle nuits blanches de Parigi nel medesimo periodo ma durante quelle due notti lì ci sono 30.000 persone che passano perché sarà un'esposizione collettiva io ho avuto l'occasione e la gioia di poter intervenire in questo sito e di intervenire con questi quadrati disposti in questa maniera che confermavano praticamente lo spazio nella sua dimensione questo intervento è stato un intervento temporaneo durato due giorni che poi è stato tolto alla fine è un intervento pittorico con dei materiali appositi per poter rilasciare poi il posto senza rovinarlo dunque quello che mi interessava in questo spazio è il rapporto monolitico in questo spazio completamente straordinario in un certo senso molto semplice molto essenziale e intervenire con delle forme più essenziali possibili e poi profittare della loro frammentazione e del gioco che lo spazio generava per rapporto alla posizione che si adottava nel traversarlo la pittura si libera del mio del punto di vista e diventa lei stessa generatrice di forme e di situazioni pittoriche totalmente inattese e sorprendenti queste sono dunque tutte le viste fuori dal punto per andare sull'attività per esempio diciamo del lavoro che ho svolto quest'anno l'anno scorso nell'ultimo 2017 ecco qui siamo in uno spazio completamente differente mi trovo in Giappone nelle Alpi giapponesi a mille cento metri d'altezza in una in una situazione siamo in un nucleo di 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 paesani che coltivano il riso attorno ci sono tutte queste piccole risaie terrazzate e questo insieme questo nucleo sono intervenuto con questi elissi concentrici che si sviluppavano e che che si concretizzavano sulle parti costruite dunque questi questi elissi da un punto di vista si ricostruivano ma velocemente anche loro si frammentavano e diventavano degli elementi pittorici che che andavano a toccare tutte le superfici tutte le tutte le realtà costruite differenti questo ambiente è un ambiente un po' come possiamo dire sono degli elementi architettonici molto fragili in un certo senso c'è tanta sono degli elementi dei tetti in lamiera delle superfici verticali anche in lamiera dunque era una situazione un po' inabituale molto molto inattesa per me e un po' tutta la mia avventura pittorica è sempre l'incontro di questi di questi siti totalmente inattesi totalmente sorprendenti ogni volta per parlare della comitenza ogni volta nei miei casi sono piuttosto degli inviti a delle esposizioni in questo caso un'esposizione collettiva in tutta questa regione di Omachi c'era una grande esposizione con circa 50 artisti provenienti del Giappone che intervenivano in tante altre zone geografiche in tante altre regioni di questa regione con con tanti pezzi temporanei dunque qui era ancora un caso molto differente di quello che dicevo di Versailles adesso per esempio l'anno scorso subito dopo sono stato in Germania nella città di Osnabrück dove ho fatto questo lavoro all'interno della diciamo nella cittadina stessa nel centro città era questo lavoro costituito di questi quattro cerchi che si intrecciavano in questa maniera ogni cerchio prende una misura dello spazio una volta può essere dalla dalla cima del tetto a un punto alla cima di questa di questa finestra e così via questi cerchi sono definiti per rapporto alla dimensione che lo spazio mi dà e qui tocco per esempio la cattedrale o le facciate che costeggiano la stradina del centro di Osnabrück qui in questo caso la comittenza viene dalla 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 kunsthaus di Osnabrück che ha abbinato un'esposizione sia nella città e sia all'interno di di questa all'interno di questa chiesa che appartiene alla costale di Osnabrück e che funziona come un luogo espositivo ufficiale e dunque in questo caso è stato molto interessante poter lavorare contemporaneamente all'interno del sito della della costale e all'esterno con questi tre tipi con questi tre lavori differenti all'interno di questa chiesa si può che è una chiesa sconsacrata da un punto di vista si vedevano questi doppi quadrilateri multicolorati e dall'altra parte potete constatare che avete questi frammenti del lavoro che è proprio in faccia a questo primo e assistiamo nel medesimo tempo alla costruzione e la decostruzione dell'altro lavoro ecco nel medesimo spazio abbiamo questi due lavori che dal punto di vista sono ben composti e fuori dal punto di vista creano tutte queste sorprese plastiche date dalla relazione tra lo spazio e il luogo come magari è meglio parlare come come si inserisce il tuo lavoro all'interno degli spazi pubblici cioè quando arrivi in un luogo qual è il desiderio che ti muove a essere presente in uno spazio pubblico che già esiste che quindi già è una committenza precedente e poi arriva la committenza a te come ad aggiungere qualcosa a quel luogo o a farlo nascere in qualche modo a farlo rinascere a dargli una nuova veste com'è per te questo questo rapporto con i luoghi pubblici ma in generale per esempio questo lavoro di Osnabrück è stato è stato un'esposizione costruita su 4-5 anni perché la la prima domanda è venuta da una organizzazione di esposizioni nella città per il pezzo esterno e dunque nasce dall'invito di venire a vedere la città e di farmi la proposta per un progetto futuro generalmente se accetto di andare ci vado visito la città visito sapendo che è un posto esterno dunque è un po' più impegnativo perché devo trovare un posto sul quale si possa intervenire si possa fare un progetto anche considerando che anche l'economia è sempre molto complicata da regolare in funzione del progetto e dunque a Osnabrück per esempio ho fatto un primo sopralluogo di tre giorni cercando di individuare due o tre posti interessanti e poi torno a casa torno a Parigi passa sei mesi ritorno a Osnabrück finalmente trovo decido di fare una proposta per apporto al pezzo che ho mostrato prima e a quel momento lì si si conferma il fatto che si possa fare poi subito dopo qui è stato interessante perché il committente di questo primo lavoro ha incontrato il nuovo direttore della costale di Osnabrück sono diventati hanno deciso di collaborare e il nuovo committente della costale mi domanda di fare una esposizione abbinata all'interno della costale dunque lì due anni sono passati più un anno e mezzo per finalmente finalizzare il tutto ma il rapporto è molto complesso perché sovente sono dei desideri completamente giusti ma c'è una grossissima incoscienza perché il nervo della guerra è proprio l'economia e poi le autorizzazioni perché finalmente io intervengo sulla chiesa questa è una chiesa protestante dunque è un po' più facile delle chiese cattoliche chissà perché ma sono un po' più decontrate come si dice stranamente però dopo in questo caso qui ci sono tutti i proprietari di queste facciate qui erano circa sei o sette o otto non so più esattamente dunque ci sono delle grandissime degli incontri delle discussioni degli scambi e infine si arriva a convincere che le cose possono capitare che non ci saranno chiaramente delle degradazioni e così via e poi c'è tutto un periodo di grosso dubbio perché dopo si discute del budget si discute di come trovarlo e i budget sono sempre composti da 50.000 possibilità e soluzioni e infine si arriva comunque quando si fa un lavoro all'esterno nel campo urbano è sempre molto lungo e molto complicato mentre all'interno di posti come delle costale del Cosmuseum o delle fondazioni private le relazioni sono molto più molto più semplici e vorrei magari meno interessanti in un certo senso perché lavorare nella città per me è l'avventura del vivo della realtà del fuori posto ufficiale del posto dedicato all'arte ma del posto del chiunque del pubblico completamente aperto completamente anche non preparato a queste cose ma in conclusione capita sempre un 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 piacere di vedere scoprire e di vedere almeno per quello per quello che è la mia esperienza il pubblico con le opere una volta che sono realizzate si trasforma in quasi del proprietario dell'opera diventa diventa fiero diventa il primo il primo mediateur il primo defenseur questo accade in effetti accade molto le tue opere io ritorno a fare il carattere di vedere tutte le mattine nell'autosilo del teatro così ci avviciniamo questo lì la committenza ti ha chiesto secondo me ti permettiti di una cosa abbastanza straordinaria nel senso che è la prima opera d'arte che chi viene in un centro culturale come il Lacto dove c'è il museo la sala teatrale eccetera la prima cosa che incontra la prima opera che vede cioè ancora prima di aver fatto il biglietto per entrare ha già un'opera d'arte da vedere cioè la tua quindi in qualche modo tu entri a far parte di una sorta di collezione permanente di un polo culturale e sei la prima opera di questo luogo perché è la prima che si vede come è stata per te l'idea di come è arrivata intanto se ci dici come è arrivata la proposta che cosa ha voluto dire per te insomma metterti a servizio di questa opera pubblica che è proprio un luogo di se prima parlavamo di utilità e bellezza un autosidio è proprio per antonomasia un luogo che uno immagina solo come di utilità e invece diventa anche un luogo di bellezza e di più diventa la prima opera che non vede arrivare in un luogo culturale ma diciamo che la mia la mia avventura è all'inizio è proprio quella di decidere che tutti i siti costruiti tutta l'architettura tutto tutto l'artefatto nel quale sono confrontato deve essere possibile per poter fare per poter pitturare e chiaramente quando sono invitato a lavorare in un autosilo fa un altro effetto che essere invitato al Cusmuseum di Suligo diciamo sono in un posto dove hai voglia di entrarci anche se ben fatto se hai fatto alla Svizzera ma hai voglia di entrare e uscire il più presto possibile dunque tutto l'impegno è trovare in che maniera entrasci in che maniera lavorarci in che maniera poter costruire qualche cosa che fa senso e che fa e che è giusto nella mia maniera non è per me non è stato facile accettare diciamo accettare poi dopo non è più una questione di accettazione è una questione di avventura entrare nell'avventura in un certo momento cosa fare come fare che priorità a cosa dare già la scelta in questo caso qui in tutto il mio percorso la scelta del punto di vista è il mio pretesto a pitturare come perché pitturo in che maniera pitturo e che senso do la pittura e il punto di vista è proprio l'attrezzo per far apparire la pittura e qui ho deciso di posizionare il punto di vista al posto del della persona che sta a destra del del pilota del come si dice del guidatore non so più se si dice l'italiano scusate il mio italiano è diventato un po' francese e dunque del guidatore volendo volendo esplicitamente creare e dare al punto di vista il momento ancora più fragile che nella realtà posizionata a un metro e sessanta su terraferma diciamo lì sei in macchina passeggi attraversi questa 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 rampa scendi e se non c'è nessuno alla tua destra quando guidi non passi dal punto di vista passi subito da parte dunque sei subito nella scomposizione e nell'éclatement mentre se c'è la persona che ti accompagna magari lo vede questo punto di vista ma in automobile è talmente rapido che sei nell'éclatement tutto il tempo e questo per rapporto è la cosa che mi interessa molto di più perché volevo approfittarne di questa energia cinetica che era propria all'utilizzo di questo luogo sì e questa energia così inizierei a parlare con l'onorevole Cristina Barzaghi perché questa energia cinetica in qualche modo di cui adesso ci parlava è quella che una struttura pubblica come come quella dell'AC è in qualche modo e continua sempre di più a essere cosa vuol dire per chi è nell'amministrazione di una città avere e si occupa proprio degli immobili di una città avere il compito di salvaguardare un luogo che è di utilità il ritorno su quella cosa perché mi sembra interessante capire per tutti questo rapporto tra utilità e bellezza in una struttura come importante da gestire come quella dell'AC innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio anche di aver fatto questo invito porto anche il saluto da parte del sindaco dei colleghi municipali che mi hanno delegato questo compito beh insomma l'abbinamento fra utilità e bellezza beh è fondamentale per un edificio così importante come l'AC che è il cuore della cultura della città di Lugano e quindi è obbligatorio che sia così ma cerchiamo di farlo anche in altri edifici anche in strutture minori ecco qui è veramente un unico io non ho seguito personalmente la genesi di questo grandissimo progetto e c'è comunque Giovanna Masoni con me questa sera che è stata mia collega in municipio per tre anni e lei ha seguito in prima persona questi lavori e lei anche ha voluto che proprio nell'autosilo si creasse appunto in un luogo anomalo un luogo di utilità estrema perché ormai si parla quasi solo di posteggi nelle amministrazioni comunali ogni tanto è anche un po' difficile perché sarebbe bello anche di parlare di cose più belle Avarese è uno degli argomenti di cui si è parlato di più negli ultimi mesi abbiamo qui anche l'assessore Civati che non ho salutato prima chiedo scusa e si parla moltissimo di parcheggi però non sono non sono dipinti da Varini Avarese quindi non abbiamo questa fortuna scusa l'interruzione sì io avevo preparato una presentazione un po' più che dava uno sguardo più allargato su quello che è la nascita di questo grande edificio che sta dando molto impulso alla città di Lugano che dovrà intersecarsi anche con altre attività della città e a me piacerebbe portare voi che siete un pubblico prevalentemente di architetti un po' in quello che noi abbiamo vissuto quando è stato inaugurato il LAC e magari anche tu Andrea ti puoi anche un po' emozionare perché vorrei condividere un po' con voi anche quello che è questo nuovo centro culturale dal punto di vista dell'inserimento nella città quindi nella creazione di un nuovo luogo nella città e se permettete posso? Lo faccio partire ho un piccolo intermezzo questo è un piccolo video fatto in occasione dell'inaugurazione 12 settembre 2015 dell'AC l'accompanie l'accompanie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.